La notizia della recente visita nel reparto di geriatria dell'ospedale Santo Spirito di Pescara da parte dell'assessore alla sanità Nicoletta Verri per verificare la situazione ormai al collasso del reparto, visto le numerose richieste di ricovero, arrivate ormai a una settantina al giorno a fronte di 56 posti letto, ha stuzzicato la reazione del comitato Salviamo l'ospedale di Penne tramite il suo presidente Nicola Spoltore. Ci saremmo aspettati, scrive Spoltore in una nota, che l'assessore alla sanità avesse avanzato un'altra ipotesi, quella di riaprire il reparto di geriatria del nosocomio San Massimo di Penne, da sempre polmone del reparto Adriatico e centro di riferimento per tutta la provincia pescarese e terramana. Ci convinca, continua Spoltore, che vuole recuperare un rapporto di affetto con gli abitanti dell'area Vestina, che hanno votato questo governo regionale, ma che hanno paura di ritrovarsi ancora una volta come nel 2009. Questa proposta effettivamente è stata avallata nell'incontro di ieri a Pescara anche dal primario del reparto dell'ospedale Santo Spirito, chiedendo proprio all'assessore di riattivare i posti in lungo degenza degli ospedali di Penne e Popoli. La Veri offre già delle soluzioni a tutto questo, fra i quali una diversa gestione degli ingressi in pronto soccorso, oltre alla possibilità di assistere i pazienti non acuti al loro domicilio o coinvolgendo le residenze sanitarie assistiti. Ma chissà se tra queste possa arrivare a breve un sorriso anche per i cittadini dell'entroterra del pescarese.